E' il tipo più comune di linfoma non-Hochkin e di linfoma aggressivo. Negli ultimi tempi la ricerca ha puntato molto sull'immunoterapia e ha permesso di sviluppare nuovi farmaci immunoterapici molto promettenti per i pazienti affetti da questo tumore del sangue, in particolare per quelli con malattia recidivata o refrattaria. Facciamo il punto sulle ultime novità con un esperto, il professor Maurizio Martelli, in occasione dell'evento Essentials in Ematology 2021 con la sponsorizzazione non condizionante di Insight. Tra i nuovi farmaci immunoterapici per il linfoma diffuso a grandi cellule B, uno dei più promettenti è tafasitamab, che tra l'altro è stato approvato nell'Unione Europea lo scorso agosto. Di che farmaco si tratta, come agisce e che risultati permette di ottenere? Il tafasitamab è un anticorpo monoclonale anti-CD19 non coniugato, dimostrato notevole attività in associazione all'enalidomide, in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, recidivi e refrattari. Per lo più pazienti anziani non o non elegibili al trapianto. È un anticorpo molto efficace. Nei prossimi anni, molto del tutto recentemente, più recentemente, verrà sperimentato nel trattamento di prima linea. Cioè l'associazione tafa più l'enalidomide verrà messa a confronto, insieme ad R-SHOP, verrà messa a confronto con R-SHOP da solo. Quindi in questa fase il tafa verrà valutato ha una sua efficacia nel trattamento di prima linea. Quindi è sicuramente un farmaco molto interessante. Un'altra classe di farmaci immunoterapici promettante per questi pazienti è quella dei coniugati anticorpo farmaco o immunoconiugati. Di che farmaci si tratta e che risultati hanno dato finora? Allora ecco, questo è diversamente dal tafasidumab che abbiamo detto che è un anticorpo nudo non coniugato. Questi sono anticorpi coniugati. Che cosa vuol dire coniugati? Che sono anticorpi che riconoscono un determinato antigene sulla cellula tumorale, ma al loro interno contengono dei cosiddetti farmaci chemioterapici. Tra i due principali, il primo è il polatuzumab, che è un anticorpo anti-CD79B che contiene all'interno la medilauristatina. È un farmaco estremamente importante perché riconosce il bersaglio, penetra nella cellula e induce la pottosi cellulare, che non è altro che la morte cellulare. Il polatuzumab, in associazione a un programma di chemioterapia tipo vendamustina-rituxina, si è dimostrato molto attivo in pazienti con malattia recidiva, refrattaria e diffuse a grandi cellule. Lei ha ottenuto l'approvazione sia dell'EMA e molto probabilmente in questo già nel 2022 noi avremo, anzi sicuramente, avremo la possibilità di impiegarlo nei cosiddetti pazienti diffusi a grandi cellule non elegibili al trapianto autologo o a altri trattamenti immunoterapici. Un altro farmaco ancora che però non è così avanti nella valutazione clina è l'oncastuzumab. È lo stesso un anticorpo che riconosce l'antigene CD19, è coniugato, contiene all'interno la benzodiazepina, da solo si è dimostrato molto attivo sempre in pazienti con l'infoma diffusa a grandi cellule rigaduti e refrattari e del tutto recentemente nuovi studi stanno cercando di coniugarli a farmaci biologici come per esempio l'ibrutinib. Quindi questa potrà essere una nuova scelta terapeutica nel prossimo futuro, ma probabilmente più posticipata rispetto al poladuzumab. Infine, sempre fra gli immunoterapici, un'altra classe che si sta studiando è quella degli anticorpi bispecifici. Che farmaci sono e che prospettive offrono? Allora, sono un terzo tipo di anticorpi se noi ci riferiamo ai due precedenti. Questi non sono anticorpi coniugati, sono anticorpi semplici ma che riconoscono un doppio recettore. In poche parole riconoscono l'antigene CD20 e l'antigene CD3, facendo sì che l'anticorpo monoclonale possa legare i nostri linfociti e riconoscere l'antigene CD20. Quindi è un meccanismo di immunoterapia sicuramente più complesso, ma è estremamente efficace. Studi recenti hanno dimostrato che questi anticorpi bispecifici, in questo momento i più sperimentani sono il mosentuzumab e il glofidamab, sono dimostrati molto efficaci in pazienti con l'infoma follicolare e in pazienti con l'infoma diffuso a grandi cellule recidivo refrattario. Anche in questo caso si sta valutando l'opportunità di combinare questi farmaci ad altri farmaci biologici in associazione.